Buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Sipario e dintorni. Un rotocalco che si occupa di arte, cultura e anche iniziative che danno sempre un valore aggiunto al nostro territorio. Parlando di iniziative e di tradizioni, oggi è qui con noi Silvana Pasquali, presidente dell'Associazione Paglio del Velluto di Lionessa. Allora, siamo arrivati alla 112esima edizione del Paglio del Velluto, che è una rievocazione storica rinascimentale. Un lungo percorso indubbiamente. Facciamo una breve sintesi. Allora, il Paglio del Velluto si svolge a Lionessa nell'ultimo weekend di giugno. Ha sempre compreso all'interno della festa la festività dei Santi Pietre Paolo, perché così era anche nell'antichità. Si è stata, diciamo, svolta questo palio fino alla seconda metà del 1500. Poi è stata interrotta perché durante il palio avvenivano degli sconvolgimenti proprio con delitti e quindi è stata interrotta. Un brutto periodo. Un brutto periodo. Dopodiché è stata ripresa nel 1997 e da allora ha subito tutta una serie di migliorie per diventare oggi, credo, una delle manifestazioni più rappresentative della provincia di Ieti, perché a Lionessa vengono durante il Paglio del Velluto tantissimi turisti. È una manifestazione che appunto si svolge nel Rinascimento e è veramente un full immersion, nel senso che tutto il paese è veramente coinvolto tra cortei, allestimento di taverne, realizzazione di spettacoli. Partecipano tutti, mi diceva. Sì, sì. Consideriamo che Lionessa non è un paese molto grande, quindi diciamo ha una media di popolazione intorno ai 1500 abitanti e riusciamo nel Paglio del Velluto ad allestire un corteo di circa 500 persone. Quindi significa che veramente la partecipazione è notevole, tantissima. Mi parlava dei costumi poco fa, quindi siete, ci sono anche delle ricerche in merito, no? Sì, certo. Noi abbiamo individuato come collocazione storica del nostro Paglio, come data, il 1541, che è la data in cui presupponiamo, insomma, questo ovviamente attraverso dei testi, insomma, che Margherita d'Austria sia venuta a Lionessa. Quindi in onore di Margherita d'Austria viene svolta tutta la manifestazione, alla quale Margherita d'Austria appunto assiste. Ed ogni anno c'è una nuova Margherita d'Austria che viene eletta, no? Che normalmente è la Madonna, diciamo, del sesto vincitore. I sesti cosa sono? Sono le, diciamo, le sei contrade in cui Lionessa è suddivisa, che corrisponde grossomodo alla suddivisione dei sei castelli, dei sei, diciamo, raggruppamenti, in cui il territorio all'epoca era suddiviso. Quindi, proprio perché durante il Paglio vengono svolte delle gare, delle gare tradizionali di tipo di abilità sostanzialmente, alla fine di queste gare viene decretato un vincitore e quindi il sesto vincitore stabilisce che la propria Madonna, perché ogni anno ne viene eletta una, una dama più rappresentativa, diventerà poi la Margherita d'Austria dell'anno successivo. Ecco, l'anno scorso ha vinto il sesto di corno, quest'anno la Margherita d'Austria è una signora del sesto di corno, la stessa Madonna dell'anno scorso. E che ruolo ha questa Madonna? Fa un corteo? Sì, sì, certo. È in qualche modo la protagonista del corteo? Certo, è il personaggio principale del sesto, in pratica rappresenta in sintesi il sesto per il quale sfila, insomma, in genere viene nel corteo sfila all'interno di una cornice, noi abbiamo predisposto in passato degli archi di trionfo, diciamo, che vengono portati, diciamo, spinti a mano, ed ogni sesto ha questo suo cornice all'interno della quale c'è questa Madonna, ecco, questa dama. Dama. Bene, quindi, diciamo, è una festa articolata, indubbiamente richiede tanto tempo. Certo. E che cosa significa preparare nell'arco di un anno, immagino, il palio? Beh, sì, diciamo, il lavoro sul palio è un lavoro che non si ferma, nel senso, il lavoro più intenso è sicuramente negli ultimi giorni, è evidente. Però, sia durante l'anno anche, si cerca di migliorare, di sondare delle soluzioni diverse, perché, diciamo, la formula del palio sostanzialmente è quella, nel senso, taverne, gare tradizionali, però cerchiamo ogni anno di inserire delle figure nuove, delle situazioni diverse, quindi è chiaro che su queste bisogna lavorarci. Mi parlava anche delle figure allegoriche, giusto? Sì, perché il nostro corteo, oltre ad essere un corteo storico, quindi con la riproposizione di costumi d'epoca, appunto, calati nel 1541, abbiamo voluto dargli un taglio anche di corteo allegorico, proprio perché nei cortei rinascimentali, spesso c'era proprio questo tipo di abitudine, di usanza, e quindi anche noi ci siamo scimentati nel ripercorrere l'interpretazione di alcune tematiche attraverso i costumi, attraverso i figuranti. Ecco, quindi anche quest'anno l'abbiamo arricchito con, ecco, c'è una figura nuova che è Leonessa, forza e tenacia. Quindi i temi sono questi. Poi abbiamo realizzato, per quest'inverno, quando Leonessa ha partecipato alla sfilata del 6 gennaio a Piazza San Pietro, abbiamo realizzato l'allegoria della pace. E in passato c'era... Odierna. Sì, sicuramente è una tematica attuale, tutto però ovviamente sempre in chiave rinascimentale, e quindi ecco, diciamo, è arricchita anche da queste situazioni diverse. E poi altre cose, altre novità del lente palio, soprattutto di questi ultimi anni, che si è cimentato anche nelle rappresentazioni di spettacoli, nel senso che anche quest'anno, come l'anno passato, il sabato sera, abbiamo pensato di organizzare una sorta di spettacolo con delle performance a cavallo, il cui contenitore si chiama appunto Pegaso e la Luna, e vorremmo che questa, Pegaso proprio perché richiama i cavalli, in notturna, che è lo spettacolo di corte a cui il corteo storico che arriva con le fiaccole assisterà. E questo appunto è una rappresentazione ugualmente in chiave rinascimentale con i cavalli, nel senso c'è una voce narrante che racconta una storia, e le performance a cavallo, diciamo, rappresentano i momenti salienti di questa storia. Bello, sicuramente è un bello scenario. Sì, vediamo. Questo sabato 26. Sabato 28. Eh, 28. Sabato 28. Allora, altra novità di quest'anno è che sempre sabato 28, questo la mattina, abbiamo cercato anche di dare un po', di puntualizzare sui cibi dell'epoca. E quest'anno in particolare ci sarà un convegno che riguarderà proprio il cibo, la cucina e il gusto del 1500, proprio perché a Leonessa, durante questo periodo del Palio, ci sono le taverne dove vengono, in cui vengono riproposti, rivisitati alcuni piatti dell'epoca, e quindi anche per dare, così, per far meglio comprendere, no, come alcuni prodotti tipici dell'epoca siano in fondo ancora riutilizzati. Uno dei piatti? Uno dei piatti. Beh, uno dei piatti. I piatti sono a base di farro, sostanzialmente, tant'è che uno degli argomenti proprio di questo convegno sarà appunto il farro, visto tutto il profilo antropologico, storico, a seguito del quale poi verrà, e questo è proprio una novità, insomma, fatto un tour esplorativo in tutte le taverne, anche per assaggiare e gustare le atmosfere, con una giuria che valuterà la taverna filologicamente più corretta. Anche questo è interessante, sempre di sabato? Questo sabato. Anche ora? Sabato intorno alle 12, quindi se un folto corteo ci vuole seguire. La mattina alle ore 12, questo convegno sicuramente interessante, e la sera poi anche questa notturna, mi diceva, con i cavalli. Il corteo, con le gare in piazza, al solito viene, diciamo, la piazza di Leonessa, che è una piazza bellissima, con delle quinte naturali, architettoniche, eccezionali, viene riempita di sabbia e diventa un'arena entro la quale vengono appunto svolte sia le gare tradizionali, la gara del pane, e comunque le gare anche con i cavalli, quindi uno scenario veramente eccezionale. Sicuramente da visitare, da vedere. Da vedere, assolutamente. Allora, il tempo stringe. Velocemente quanto partecipano i giovani? Perché comunque per sopravvivere così a lungo sicuramente, insomma, c'è un profondo legame con il proprio territorio, no? E quindi questo affetto, tra virgolette, viene anche in qualche modo dato ai giovani. Sì, sicuramente. Il palio in questi anni ha rappresentato una grande valenza identitaria. E sotto il profilo sociale, secondo me, è fondamentale, soprattutto per i giovani, che nell'inverno, che a Leonessa è sicuramente lungo, si dedicano proprio ad attività come tamburini, sbaglieratori, si esercitano, perfezionano le tecniche, quindi diventa veramente un motivo di aggregazione positiva. Bene, bene. Allora, 27, 28 e 29 giugno a Leonessa con il Palio del Velluto. Io la ringrazio per essere stata qui con noi e per averci dato un pezzo di storia del nostro vasto e ricco territorio. Bene, adesso cambiamo argomento e andiamo a parlare del lavoro, anche del prossimo appuntamento di Teatro Alchemico, vero e proprio laboratorio di ricerca teatrale. Dammi, oddio, tutto ciò che ti resta, ciò che non ti viene domandato mai. Io non ti chiedo riposo o tranquillità o ricchezza o successo. Dammi ciò che gli altri non vogliono da te, dammi gli scarti, la tormenta e la mischia, ma dammi anche la forza e l'orgoglio, perché non sempre avrò il coraggio di chiederti ciò che gli altri rifiutano. Questa la preghiera del mendicante, questa la filosofia che rappresenta l'anima di Teatro Alchemico, un teatro che non si ferma ad una rappresentazione ma vuole andare oltre, oltre ogni confine per poter arrivare ad una vera comprensione dell'altro, alla conoscenza, quella stessa conoscenza che si trasforma in espressione. Sempre attivi questi giovani talenti di teatro alchemico, grande successo al MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove Metropolis, città meticcia, dove hanno realizzato Prendimi l'anima, Inducici in tentazione ma liberaci nella bellezza, una performance sulla tutela della libertà di espressione che deve avere l'arte e quindi sulla valorizzazione di principi costituzionali. Si tratta di una nuova produzione di teatro alchemico che ringrazia il Comune di Cantalice per il supporto nella realizzazione della stessa. Ma ancora, il 27 giugno sarà la Casa dei Teatri di Roma. Infatti, in collaborazione con l'Università, la Sapienza di Roma, Dipartimento di Storia dell'Arte e dello Spettacolo, Teatro Alchemico è di nuovo ospite della Rassegna per fare il teatro che ho sognato, un ciclo di incontri con le nuove realtà teatrali, soprattutto giovani. Compagnie che, lavorando in stati di marginalità, possono essere considerati dei veri e propri modelli di produzioni alternative e forse anche sostenibili, e la cui esistenza è un sintomo della resistenza della nostra cultura teatrale a farsi omologare come merce. Un'occasione per conoscere un mondo variegato e vivace di giovani per i quali il teatro diventa necessità. all'interno di una società che ha profondamente compromesso il loro futuro. E adesso un piccolo break pubblicitario, perché andiamo al Bar La Lira a Piazza Cavour. Andiamo al Bar La Lira a Piazza Cavour. Andiamo al Bar La Lira a Piazza Cavour. Ed eccoci di nuovo insieme. Adesso andiamo al Limiti di Greccio. Ne abbiamo già parlato diverse volte, dove c'è una realtà che da anni lavora per il benessere psicofisico di tutti attraverso percorsi individuali. Parliamo della associazione Partecipazione Attiva. Sentite. Al Limiti di Greccio c'è Partecipazione, un'associazione che da anni lavora a sostegno del benessere psicofisico delle persone attraverso momenti personalizzati dove l'ingrediente fondamentale rimane il diretto contatto con la natura e il rapporto con gli animali d'affezione, attraverso l'assistenza di operatori esperti con alti livelli di specializzazione che permettono a qualunque persona di godere, in piena sicurezza ed autonomia, dei benefici di attività all'aria aperta, spesso a pannaggio di esperti. La cura nei confronti del singolo è garantita anche nella scelta di evitare gruppi eccessivamente numerosi per poter seguire le esigenze individuali durante le diverse opzioni che Partecipazione offre. Arrampicata su roccia, escursioni in montagna, equitazione turistico-ambientale, passeggiate meditative in siti suggestivi e mistici come il Cammino di Francesco, da fare a piedi, a cavallo, con gli asini, con i cani, favorendo l'interazione con gli animali in ambienti naturali praticamente incontaminati. Per i meno avventurosi si possono passare giornate in relax in mezzo a natura ed ambienti suggestivi, giocando all'aria aperta per chi vuole e cucinando nel forno a legna e bracere. Inoltre, altra caratteristica di questa dinamica realtà è la possibilità di fare un viaggio tutti insieme attraverso una carrozza da passeggio a trazione animale, accessibile anche alle sedie a rotelle. Ma non finisce qui. È nata infatti una bella proposta, una vacanza sotto forma di campo lavoro a Solana de Rimbau in Catalogna dal 28 agosto al 6 settembre 2014. Solana de Rimbau è un centro di turismo rurale in Spagna. Già dallo scorso anno stiamo tentando di andare a trovarli, ha dichiarato il presidente dell'associazione Mauro Rizzetto. hanno cavalli, asini, carri e un ambiente particolarmente suggestivo. Dunque, dieci giorni di totale benessere e armonia. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 346 95 48 163. Bene, concludiamo qui la nostra puntata di Sipario e dintorni. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Grazie per aver guardato il video.